Ma quanto ci deve mettere questa ad arrivare? Io non è che posso buttare qui il pomeriggio. Penso di sapere perché ci ha chiamato. Per giovedì scorso. Giovedì scorso? Giovedì scorso. Che è successo giovedì scorso? Nella macchina tua, quando aspettavamo il mio figlio e il tuo. Ah. Eh. Già. Beh? Beh, ci avrà visti, no? Chi? Lei. Ma lei chi? La preside. No. Perché no? Ma che? Ma chi? Ma lei, la preside, ci ha visti. E invece perché siamo qui? Solo io e te? Nessun altro. Pensi che ci abbia visti qualcuno, quindi? No qualcuno. Lei, la preside. Sì, ma nessun altro però. Nessun altro. Lei, però lei ci basta, fidati. Vabbè, ma ti sbagli comunque. Non è possibile. E poi non abbiamo fatto niente noi due in macchina. Sai che cosa stavamo facendo in macchina noi due? Giovedì scorso? Sì. Mettendo in carica il mio, il tuo telefono. Sì. Questo è quello che è successo. E questo è quello che dovremmo dirle. La verità. Quello che è successo. Ok. E io mi arrabbierò. Tu ti arrabbierai. E sì. Me le devi promettere che ti arrabbi, eh? Mi raccomando, devi arrabbiare, lo devi fare. Perché lei poi cosa crede di aver visto, eh? Niente. Non ha visto niente. Ci vorrà far ragionare. Ma di cosa devo ragionare? Io faccio quello che voglio e poi non ho fatto niente. Parlerò del tuo matrimonio, del mio matrimonio. Ma pensassi ai suoi. E non si azzardassi assolutamente a dire o fare niente. Ok? E se avrà detto qualcosa a tua moglie? Ma perché avrebbe dovuto? Sono amiche, no? No, non sono amiche. Assolutamente non sono amiche. No? No. Vanno insieme dallo stesso medico di base. Medico perché non sta bene. Non sta bene quella donna. Vede cose che non esistono. Proiezioni, fantasie. È pazza. Si chiama paranoie. Paranoie le sue sono. Ok? E va aiutata. Lei o tua moglie? Entrambe? Mm.